pensiero del giorno lascio andare ogni giudizio su me stesso perché mi vedo con gli occhi dell'amore ho compassione per me sapendo che faccio sempre il meglio che posso l'universo di dio è perfetto ora e per sempre non giudicarti in fondo l'unica persona che devi perdonare sei tu ogni risentimento o rancore che hai verso gli altri può sempre essere fatto risalire a sentimenti che provi nei tuoi riguardi ecco perché alcuni dei tuoi tentativi di perdonare gli altri sono sembrati infruttuosi finché non perdonerai te stesso il senso di colpa si estenderà ai tuoi rapporti con le persone che ti circondano perdonarsi è diverso dall'accettare la colpa significa affrontare per prima cosa i tuoi sentimenti di rimorso o rabbia ammettere queste emozioni con te stesso libera il potere che hanno usato su di te in precedenza quando erano segreti nascosti la tua sincerità con te stesso ti porterà a capire che non hai fatto niente di male perché nulla di sbagliato può accadere nell'universo di dio oggi perdonati per quello che pensi di aver fatto o di non aver fatto lascia andare l'illusione della colpa e del disprezzo per te stesso siccome sei amore al cento per cento proprio come il tuo creatore puoi solo apprezzarti grazie grazie grazie